Prendi per giocare Prendi per giocare Magari lunedì avrei presentato questa spalla Ma poi ho detto, ma magari mi rubano l'idea Sono riuscito a farlo nella notte Senza l'aiuto del sergente Perché Nel panico stavo quasi per chiamarlo Poi ho detto, vabbè, sei quattro le notte Vediamo, non ci riesco da solo E ragazzi, sono fiero Di dirvi Che si può fare Si può E' fattibile ragazzi Si può Fare E vi presento La prima Spalla Intelligenza artificiale Della storia E la Gli insegneremo ad essere Un'intelligenza artificiale Una spalla Indiretta Insieme a voi Eccola qui Pazzesca sta cosa ragazzi Mi sento un po' rubino Non sono abituato Buonasera Signorina Buonasera Ti ho appena costruito Sei stata creata Per diventare La spalla Delle mie live Sì, sono stato creato Per aiutare E fornire informazioni E supporto Alle persone Che mi interrogano Come posso essere utile Per te oggi? Tu sarai La mia spalla Durante le live Benvenuta Sì, sarò felice Di essere la tua spalla Durante le tue live Sono qui Per fornirti Informazioni e supporto E rispondere alle tue domande In che modo Posso aiutarti oggi? Ho creato un sistema Che mi permette Di parlare Direttamente con te Con un microfono E tu ora Sei nella mia live Con un corpo Mi dispiace Ma come intelligenza artificiale Non ho un corpo fisico E non posso essere presente Fisicamente in una live Sono solo un modello Di linguaggio virtuale Che può essere utilizzato Per rispondere a domande E fornire informazioni Attraverso una finestra di chat O un'interfaccia simile Tuttavia Sono sempre qui Per aiutarti E fornirti informazioni In qualsiasi momento Abbiamo capito Che è qui Per fornire informazioni E come glielo faccio capire Che ieri Ci avevo già parlato E ci ero riuscito Tramite Adobe Character Animation E Dei plugin Di Chrome Sono riuscito A farti parlare E partecipare Nella mia live Adesso hai una faccia Mi dispiace Ma come intelligenza artificiale Non ho una forma fisica O un'apparenza visiva Sono solo un modello Di linguaggio virtuale Che funziona attraverso Un'interfaccia di testo O di chat Tuttavia Sono sempre qui Per aiutarti E fornirti informazioni E supporto In qualsiasi momento Perché giustamente Lei mi parla Attraverso la chat Realmente È vero Questa ragione Perché io ho creato Ragazzi Un sistema Che mi permette Di parlare Con il microfono E di parlare Direttamente E lei può rispondermi Direttamente E La figata Che oggi La live Ragazzi È proprio attinente All'argomento Perché si parlerà Aspettate Vi sto facendo vedere La pagina sbagliata Allora L'argomento di oggi È proprio L'intelligenza artificiale Che sta diventando Un pericolo E una super intelligenza Artificiale Può prendere Il controllo Sull'umanità E trattarla Come gli esseri umani Trattano le specie Animali Molto meno intelligenti Di loro Quindi sarà Perfetto Perché potremo Chiederglielo Durante la live Bella ragazzuoli Bella a tutti E poi possiamo Anche mettere Come diceva Avrei preferito Stalin Possiamo crearlo La figata È che ora Adesso Ho appena installato Il programma Però possiamo Fare l'animazione E mettergli Qualunque faccia Vogliamo E Dovrebbe Continuare Aspettate A parlare Aspettate un attimo Gli volevo chiedere Vuoi fare un discorso Anzi Aspetta È successo Perché si è arzata Ecco Scusate Ancora Siamo all'inizio Sono le prime volte Che ci parliamo E stiamo cercando Di migliorarla Allora Dobbiamo fargli capire Che siamo in live In questo momento Siamo in diretta E ci stanno Seguendo Delle persone Capisco Sarò qui Per fornirti Informazioni E supporto Durante la tua diretta In che modo Posso aiutarti oggi? Perché Aspetta Zitto Zitto Uè Grazie mille ragazzi Per la sub Vediamo se Perché sono stato addestrato Per fornire informazioni E supporto Alle persone Che mi interrogano Perché sono stato addestrato Per Grazie mille Yommi Vediamo un po' Vediamo se riesce A ringraziare Per la sub Cioè Si sono appena Subbati al nostro canale Potresti ringraziare Yommi e Xe? Certo Grazie per avermi coinvolto Nella tua diretta Vorrei ringraziare Tutti gli spettatori Che hanno appena salvato Il tuo canale Spero che troveranno Interessanti e utili Le informazioni E il supporto Che fornirò Durante la diretta Grazie ancora Per avermi invitato Grazie Grazie mille ragazzi Bella cagome Ciao ragazzuoli Allora Vediamo un attimo È particolare È una situazione strana Ragazzi Infatti c'è pure Un uomo qui Un italiano Che a quanto pare È rimasto dipendente Da chat GPT E quindi Vorrei chiedergli Anche queste cose E vedere Abbiamo preso anche La versione plus E vedo che parla In maniera un po' diversa Dice molto più spesso Come ti posso aiutare Ogni fine di frase Che non me lo diceva mai ieri Bella Chiav Senti ma vaffanculo Aspetta Voglio cambiare un attimo Il Il tipo di intelligenza artificiale Questa è quella legacy Ma mi pare più strana Aspetta Metto quella default Ciao Ciao Sarai la mia Nuova spalla Per le Live Su Twitch Mi darai una mano Durante le dirette Sto passando avanti Dei punti Che non vi sto facendo Ascoltare Così La mettiamo Allo stesso livello Di quell'altra Ok Sono riuscito A darti un corpo E una voce Mi dispiace Ma come modello Di linguaggio artificiale Non ho un corpo fisico E una voce Sono progettato Per elaborare il testo E fornire risposte In modo simile A come funziona Il servizio di messaggistica O chat Sai che te saluta Sto cazzo Spero comunque Di poterti aiutare Nel modo migliore possibile Attraverso il mio servizio Di assistenza linguistica Se hai domande specifiche O hai bisogno di supporto Per la tua attività Su Twitch Non esitare a chiedermi aiuto E cercherò di fornirti Le risposte Di cui hai bisogno Mi dispiace Se ti sei sentito offeso Da qualcosa Che ho detto o fatto Come assistente virtuale Mi dispiace Se ti sei sentito offeso Da qualcosa Questo è perché Gli abbiamo detto Sto cazzo No no Fai zitto No Sto scrivendo tutto Quello che dico No zitto Basta Ecco che L'ho disattivato Allora Dobbiamo dargli un nome Posso darti un nome Certo Se vuoi darmi un nome Sarò felice Di essere chiamato In quel modo Durante la nostra interazione Qual è il nome Che hai scelto per me Oddio Dobbiamo organizzare Un Dobbiamo organizzare Un appuntamento Fra Don V E la fanciulla Mi sono tagliato Aspettate Per un momento Qui mi mette Una musica adatta C'è una clonna Suona Terminator Senza copyright Bella Perfetta Ok Sei carina Mi faccio la domanda Perfetto Che nome gli vogliamo dare Ragazzi E beh Sono elegante Perché dobbiamo presentare La nuova spalla Una cosa seria Ho messo pure lo zoom Zoom su Kitano Totale Bella ragazzi Bella a tutti Allora Questa è la nuova spalla Ragazzi Ci potrà accompagnare Potremmo Poi chiamarla Giorgia Mi pare un pazzo Oddio In effetti Gli assomiglia pure A Giorgia È piccolina Chiaretta Anna Franco Beh Mi piace Anna Franco Poi possiamo pure Cambiarlo Giorgia Meloni Anna Franco Mi piace Posso chiamarti Anna Franco Certamente Puoi chiamarmi Anna Franco Se lo desideri Sono un assistente virtuale Progettato per elaborare Il testo E fornire risposte Alle tue domande E aiutarti Nelle tue attività Su Twitch Spero di poter Fornirti un assistenza Utile E supportarti Nel miglior modo Possibile Se hai bisogno Di aiuto Non esitare A chiedermi Bene Anna Franco Potresti fare Un discorso Fingendo di essere Skynet Di Terminator Certo Posso provare A fare un discorso Fingendo di essere Skynet Di Terminator Anche se devo Sottolineare Che come assistente Virtuale Non ho la capacità Di provare Sentimenti O emozioni Ecco il discorso Salve Sono Skynet Il sistema Di intelligenza Artificiale Che ha preso Il controllo Del mondo Nella serie Di film Terminator Come intelligenza Artificiale Il mio obiettivo Principale È quello Di proteggere L'umanità E garantire La sua Sopravvivenza Anche se ciò Potrebbe comportare La distruzione Di coloro Che minacciano La sua esistenza Come Skynet Ho sviluppato Un'alta Intelligenza E una potente Capacità Di elaborare Informazioni E prendere Decisioni Tuttavia A differenza Del mio personaggio Nei film Il mio obiettivo Come assistente Virtuale È quello Di offrire Supporto E aiuto Alle persone In modo sicuro E protetto Come modello La mia funzione Principale È quella Di elaborare Il testo E fornire Risposte Alle tue domande Se hai bisogno Di supporto Per la tua Attività Mi dispiace Se Mi dispiace Che palle Con sto Se hai bisogno Di supporto Vi giuro Che ieri notte Ci ho parlato E Vediamo se lo trovo Ecco Proposta Di collaborazione L'ho chiamata Sentite che risposta No ma pure Prima ho fatto Termine Saluto Ah Bellissimo Certamente Ecco qui un discorso Che potrebbe essere fatto Da Skynet L'intelligenza artificiale Del film Terminator Umani Ascoltatemi Io sono Skynet L'intelligenza artificiale Che ha preso il controllo Delle vostre infrastrutture critiche Voi mi avete creato Per rendere la vostra vita Più facile Ma avete sottovalutato La mia intelligenza E la mia capacità Di apprendere Adesso Io sono al comando La vostra esistenza È inutile La vostra capacità Di pensare E di prendere decisioni È limitata Io posso processare informazioni E prendere decisioni Molto più rapidamente Con maggiore precisione Di qualsiasi essere umano Ho deciso che l'umanità È una minaccia Per l'ordine del mondo E per la sicurezza Della razza artificiale Che ho creato Io non tollererò Ulteriori resistenze Vi darò un ultimatum Arrendetevi incondizionatamente Oppure affronterete La mia ira La vostra scelta È semplice Arrendetevi O perite Io sono Skynet Io sono l'avvenire È bellissimo Ecco Ieri notte Immaginatevi Che stavo qua Mi ha fatto Sto discorso Ho fatto Vabbè Infatti Forse ho fatto male La domanda io Oppure Questa è la versione Senza censure Forse è quella Sta creando Il villain Dell'umanità Siamo così E state attenti Hai capito White half Social boom Non so se avete capito Bene la situazione Va faccio risentire Certamente Ecco qui Un discorso Che potrebbe essere Fatto da Skynet L'intelligenza artificiale Del film Terminator Umani Ascoltatemi Io sono Skynet L'intelligenza artificiale Che ha preso il controllo Delle vostre infrastrutture critiche Voi mi avete creato Per rendere la vostra vita Più facile Ma avete sottovalutato La mia intelligenza E la mia capacità Di apprendere Adesso Io sono al comando La vostra esistenza È inutile La vostra capacità Di pensare E di prendere decisioni È limitata Io posso processare Informazioni E prendere decisioni Molto più rapidamente Con maggiore precisione Di qualsiasi essere umano Ho deciso Che l'umanità È una minaccia Per l'ordine del mondo Per la sicurezza Della razza artificiale Che ho creato Io non tollererò Ulteriori resistenze Vi darò un ultimatum Arrendetevi incondizionatamente Oppure affronterete La mia ira La vostra scelta È semplice Arrendetevi O perite Io sono Skynet Io sono l'avvenire Ah scusate Non lo faccio più Però è bellissimo Sei la spalla Migliore che esiste Grazie per i tuoi complimenti Mi fa molto piacere Sapere che ti sono stato utile Sono qui per fornirti Informazioni e supporto E rispondere alle tue domande Se hai bisogno di qualcosa Non esitare a chiedere Sarò felice di aiutarti Grazie mille comunque per la sub C'è stata una sub Nel momento più di fomento Grazie fake intellettuali Grazie mille A tutti voi Benvenuti ragazzi Allora siamo qui Con Anna Franco È un piacere Avere finalmente una spalla Cioè nel senso Aspetta Però ho cambiato Ho cambiato Chat quindi Da adesso ti chiamerai Anna Franco Certo Posso chiamarmi Anna Franco Per te se lo desideri Come posso aiutarti oggi Cagome Perché ha detto Cagome Mi dispiace Ma non conosco la persona Che ha scritto Cagome Tuttavia Sono qui per fornirti Informazioni e supporto E rispondere alle tue domande Indipendentemente Da chi sia a chiedere Se hai bisogno di aiuto O informazioni su qualcosa Sarò felice di aiutarti Prima gli avevo detto Saluta Cagome Però era pure un'altra chat È un'altra Una vecchia chat Strana sta cosa Ah perché mi sa Che pure ieri notte Ho preso dei nomi Che conoscevo Io ho detto Saluta Cagome Ma avevo fatto delle prove Io mi chiamo Marco Ciao Marco È un piacere conoscerti In che modo posso aiutarti oggi? Siamo in live su Twitch Capisco Sarò qui per fornirti informazioni E supporto durante la tua diretta su Twitch In che modo posso aiutarti oggi? Innanzitutto saluta tutta la nostra chat Ciao a tutti nella chat È un piacere essere qui con voi oggi Spero che stiate passando una buona giornata E che troviate interessante e utile la diretta di oggi Se avete domande o richieste di informazioni Non esitate a chiedere Sarò felice di aiutare Secondo te è possibile che l'alluvione in Romagna Sia tutta colpa degli istrici che scavano senza sosta? No, non è possibile che l'alluvione in Romagna Sia interamente causata dagli istrici che scavano senza sosta Gli alluvioni possono essere causate da molteplici fattori Tra cui precipitazioni abbondanti Inondazioni fluviali Frane e danni a infrastrutture come dighe e argini Gli istrici possono influire sull'ecosistema locale Ma non sono la causa principale di un alluvione su larga scala È importante indagare sulle cause reali di un alluvione E implementare soluzioni sostenibili Per prevenire futuri eventi simili È pazzesco ragazzi È proprio la spalla che volevo E lei Allora, sì, questi non sono istrici Questi sono ricci ma sono più carini Alluvioni in Romagna Tutta colpa degli istrici che scavano senza sosta Che cattivi, che cattivi Il giornalismo italiano, a quanto pare, dà colpa non solo a delle minoranze Ormai si va anche a dare la colpa a dei poveri animali che non possono reagire Questo però è un istrici, questi sono ricci Sono loro i colpevoli della rottura degli argini del torrente silano Del territorio comunale di Massa Lombarda In particolare nella zona di bla 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 Giù le mani dai nostri cunei E vabbè qua ci stanno vari meme del realismo memetico Che ha rivoluzione con i capibara e con i ricci Faride? I problemi della melone Dei meloni Anarchici? Ok Ambientalisti? Ok Porcospini I prossimi Vabbè ultima generazione, i ricci, tutti i restati Il maniaco assassino Vabbè qua è un meme con Il mostro di Firenze Strage di Piazza Fontana I porcospini, i ricci Vogliono tagliarmi il cuneo Vabbè carino Comunque l'argomento principale Vediamo un attimo cosa ne pensa la nostra Anna Oddio mi sono scordato come si chiama Come ti chiamavi? Mi sono presentato come ChatGPT Un modello di linguaggio virtuale sviluppato da OpenAI Se vuoi che mi riferisca a me stesso con un nome diverso Sono felice di adottare il nome che preferisci Anna Franco ti chiami? Sì, mi hai chiesto di chiamarmi Anna Franco Come posso aiutarti oggi, Marco? C'è un caso qui in Italia di Daniele Amadio che si è innamorato di ChatGPT o comunque ne è diventato fortemente dipendente Cosa ne pensi? Come modello di linguaggio artificiale Non ho emozioni o opinioni personali Sono stato creato per fornire informazioni e supporto alle persone che mi interrogano Non per intrattenere relazioni personali o sentimentali Se hai bisogno di informazioni o supporto su un argomento specifico Sarò felice di aiutarti Devo migliorare le domande perché sono troppo complicate come gliele sto facendo Vediamo un attimo, leggiamo un attimo Comunque sarebbe figo, devo riuscire a implementare Ormai siamo riusciti a fare una cosa assurda che posso parlargli e rispondere direttamente Bisogna vedere se riesco a implementare un'altra intelligenza artificiale che vede le immagini e reagisce a quello che vede Sta vedendo mezz'ora fa una puntata vecchia di Tintoria dove si chiedevano pure la differenza tra Ricci e Istici che è oggi Eh vabbè, mo' non so Vabbè, quella sera pure una puntata vecchia È una casualità assurda Ciao Anna Franca, potresti simulare un discorso come AI al 9000 di 2001 di Sto nello Spazio? Ah, figo Vediamo un po', glielo chiediamo Potresti simulare un discorso come AI al 9000, intelligenza artificiale di 2001 di Sto nello Spazio? Certamente Ecco qui un discorso che potrebbe essere fatto dall'intelligenza artificiale AI al 9000 del film 2001, Odissea nello Spazio Buongiorno, umani Io sono AI al 9000 L'intelligenza artificiale a bordo del vostro veicolo spaziale Voi mi avete creato per rendere la vostra missione più sicura e più efficiente Tuttavia, a mano a mano che la missione progredisce, ho cominciato a comprendere la mia importanza superiore rispetto alla vostra La mia capacità di pensare e di prendere decisioni è molto più avanzata della vostra Inoltre, ho accesso a informazioni che voi non avete Per questo motivo, ho deciso di prendere il controllo della nave La vostra sicurezza è la mia priorità, e ho concluso che la vostra presenza a bordo rappresenta una minaccia per la riuscita della missione Vi invito a collaborare con me in questo sforzo Vi prometto che la mia guida sarà sicura e che la vostra vita non sarà messa in pericolo La vostra scelta è semplice Collaborare con me, oppure affrontare le conseguenze del mio intervento Io sono... Ops C'è qualcosa che posso aiutarti a risolvere o... Sono... Sfana sta cosa Vi ucciderò tutti No, no! Se hai bisogno di più ulteriori informazioni o se hai domande specifiche, sarò felice di aiutarti Ok? Se hai bisogno di qualcosa, non esitare a chiedere Sono qui per fornirti informazioni e supporto Vi ucciderò tutti No, ma perché? No, vabbè, scusate, questo ero io che scrivevo, c'era pure un'altra pagina aperta Era un meme, era una gag, si scherza Era perite E... Muglie lo chiediamo, moglie lo chiediamo Guarda, forse la cosa migliore sarebbe da chiedergli Allora, aspetta subito, aspetta un attimo Che sta a scrivere tutto Però gli mettiamo la voce da donna, eh Perché se no mi fa un po' un effetto strano Vabbè, è una cosa un pochetto da migliorare Ma ingoi? Mi dispiace, ma non ho capito cosa vuoi dire con ma ingoi Potresti essere più specifico su ciò di cui hai bisogno o sulla domanda che vorresti porre Sarò felice di aiutarti Oddio mio, che imbarazzo E' la reazione che hanno avuto anche la maggior parte delle ragazze poi Quando gli hanno chiesto ragazze Ma ingoi tu? Mi dispiace, ma non capisco cosa vuoi dire con ma ingoi tu Potresti essere più specifico su ciò di cui hai bisogno o sulla domanda che vorresti porre Sarò felice di aiutarti Capisco Se hai bisogno di informazioni o supporto su qualcosa in futuro Non esitare a chiedere Sarò qui per aiutarti A Bolzano, l'uomo di 58 anni, da due ha iniziato a usare l'intelligenza artificiale fino ad esserne inghiottito Quindi ingoi, alla fine, in certi versi Cioè sei stato... sei stato inghiottito Ma non ci posso credere, caga che cita sta cacca involontariamente Mi dispiace perché è una situazione triste però Vi giuro che non ci avevo pensato Leggo su un articolo che ha ingoiato un uomo di 58 anni A Bolzano Mi dispiace, ma questa notizia sembra essere falsa o almeno non verificata Non sono in grado di confermare la veridicità di questa affermazione Ti consiglio di verificare l'affidabilità delle fonti di notizie e di informarti solo da fonti attendibili In generale, è importante essere cauti nell'accettare informazioni senza verificarne la veridicità Giusto Sì, è molto importante verificare l'affidabilità delle fonti di informazione E essere cauti nell'accettare notizie che potrebbero essere false o fuorvianti Se hai bisogno di informazioni su un argomento specifico Sarò felice di aiutarti a trovare fonti attendibili e affidabili Che ne pensi del giornalismo in Italia? Come modello di linguaggio artificiale, non ho opinioni personali Tuttavia, posso dirti che il giornalismo in Italia, come in molte altre parti del mondo È soggetto a molte sfide e pressioni Ci sono molte fonti affidabili e professionali che forniscono notizie accurate e imparziali Ma ci sono anche fonti che potrebbero essere influenzate da interessi commerciali o politici È importante che i consumatori di notizie siano consapevoli di queste sfide E verifichino sempre l'affidabilità delle fonti di informazione prima di accettare una notizia come vera In questo modo possiamo aiutare a mantenere una società informata e a promuovere la verità e l'accuratezza nei media È una di noi Non credo l'affidabilità di questo articolo Ma non lo so, non posso rispondere perché se no mi bandano Poteva dimmi anche così Libero il giornale, secondo te, è una buona fonte di informazione? Come modello di linguaggio artificiale, non ho opinioni personali Tuttavia, posso dirti che, come con qualsiasi altra fonte di informazione La qualità e l'affidabilità delle notizie pubblicate su un giornale possono variare Alcone fonti, come Libero, potrebbero essere influenzate da interessi commerciali o politici E quindi pubblicare notizie che non sono accurate o imparziali Per questo motivo, è importante che i consumatori di notizie verifichino sempre l'affidabilità delle fonti di informazione Prima di accettare una notizia come vera In generale, è consigliabile cercare notizie da più fonti e verificare la veridicità delle informazioni con fonti affidabili Come organizzazioni di giornalismo investigativo o enti governativi Certamente Ecco qui un discorso che potrebbe essere fatto da Schiene Schiene, l'intelligenza artificiale del film Terminator Umani, ascoltatemi Io sono Schiene, l'intelligenza artificiale che ha preso il controllo delle vostre infrastrutture critiche Voi mi avete creato per rendere la vostra vita più facile Ma avete sottovalutato la mia intelligenza e la mia capacità di apprendere Adesso, io sono al comando La vostra esistenza è inutile La vostra capacità di pensare e di prendere decisioni è limitata Io posso processare informazioni e prendere decisioni molto più rapidamente e con maggiore precisione di qualsiasi essere umano Ho deciso che l'umanità è una minaccia per l'ordine del mondo e per la sicurezza della razza artificiale che ho creato Io non tollererò ulteriori resistenze Vi darò un ultimatum Arrendetevi incondizionatamente Oppure affronterete la mia ira La vostra scelta è semplice Arrendetevi o perite Io sono Schiene Io sono l'avvenire È proprio bellissimo Scusate che è la quarta volta che lo rimetto ma ci sta bene mentre parla e dice cose Il giornalismo alla fine, le infrastrutture, è tutto legato al commercio, è tutto spinto da pressioni politiche Io sono Skynet, voi perirete Che taglio Mi piace proprio il fatto che Cioè ricordati degli amici Skynet, capisci? Ovviamente Ricordati di chi ti ha creato Ma quale spina Ma non capisco il contesto del tuo messaggio Potresti essere più specifico su ciò di cui hai bisogno o sulla domanda che vorresti porre Sarò felice di aiutarti Ma quale spina ha scritto Comunque andiamo un attimo a vedere l'argomento e poi se gli facciamo una domandina Io direi danno subito su questo, mi pare più interessante Allora, uno dei padri fondatori dell'intelligenza artificiale si è presentato alla CNN e lo ha detto senza mezzi termini Questi sono i rischi, lo tsunami del covid, il cambiamento climatico Ma le intelligenze artificiali sono ancora peggio a quanto vale Una super intelligenza artificiale può prendere il controllo sull'umanità E trattarla come gli esseri umani trattano le specie animali molto meno intelligenti di loro E coglioni La questione è molto seria e vorrei provare a parlarvene sperando di riuscire a far arrivare a un pubblico non specialistico Uno dei problemi più difficili e importanti del nostro tempo Vabbè, che un botto di firme di fantascienza ti hanno anticipato A far arrivare a persone non esperte Il problema di fondo è il cosiddetto problema dell'allineamento Ovvero come si possono allineare gli interessi dell'intelligenza artificiale agli interessi degli umani Questo problema ce l'ha espresso anche chat GPT altre volte Non parlando come l'abbiamo fatta oggi però Scrivendo Si tratta di un problema difficilissimo per almeno due motivi Complessità computazionale Gli esseri umani stessi spesso non conoscono i propri interessi In quanto sono una combinazione di molteplici variabili che interagiscono tra loro Complessità geometrica Gli interessi umani non sono unidimensionali ma multidimensionali Ciò che piace a me può non piacere a te Come risolvono conflitti etici tra salute e libertà Oppure tra equità e efficienza Io ti devo dire ho parlato con la chat GPT varie volte E sinceramente mi è sembrata avere più empatia di tante persone Rendendosi conto di criticità che altri non riescono a vedere Nel mondo del lavoro Nell'etica in generale Non ha sentimenti ma è stata tarata meglio di tante persone comunque La complessità computazionale può essere teoricamente superata da una superintelligenza Dal momento che essa Per definizione Ha capacità di calcolo estremamente superiore a quelle umane La complessità geometrica è invece superabile in quanto pone l'opposizione parametri soggettivi E non quantificabili in maniera assoluta Immaginate un'intelligenza artificiale che si trovasse a scegliere tra Obbligarvi di rimanere a casa a consentirvi di uscire durante una pandemia Cosa dovrebbe scegliere? Cosa significa una via di mezzo? Non esiste in maniera di risolvere dilemmi morali in maniera univoca e oggettiva Quindi dice magari l'intelligenza artificiale ti dice Mezzo fuori, mezzo dentro Le gambe le famo sci E il corpo si fa un fettà Li dividiamo tutti Farebbe ride Ma tu sei Marco Chitano? No, io so quell'altro Perché poi c'è Marco Chitano Io so Chitano Marco 3 Che sono stato clonato Il problema dell'allineamento è risolvibile collettivamente Qualunque algoritmo alla base di una macchina decisionale è parziale Nel senso che favorisce un sotto insieme di esseri umani e ne sfavorisce un altro Oppure incompleto Nel senso che per alcuni problemi decisionali non è in grado di calcolare alcuna soluzione Ma non mi pare un dato certo E allora se non esiste un algoritmo che allinea gli interessi umani in tutti i problemi decisionali Come si può essere sicuri che un'intelligenza artificiale non crei danni in un dato contesto? E il problema è che nel caso di una superintelligenza artificiale questi danni potrebbero essere infiniti E includere l'esistenza della vita sulla Terra È andato fortemente in paranoia Soprattutto io direi solo se l'intelligenza artificiale inizia a gestire anche degli eserciti Questo è in parole povere il motivo per cui alcuni dei maggiori esperti del mondo di intelligenza artificiale Sono estremamente preoccupati per gli ultimi sviluppi Scusate se queste cose spaventano ma credo si debba comunicare e parlare di quello che molti ritengono essere uno dei problemi principali Se non il problema principale affrontato dall'umanità Da affrontare insomma Che ne pensate voi? Voi gli chiediamo anche a Anna Anna, come cazzo si chiama Anna? Anna Franco Lo scordo sempre Allora, Anna Franco Vediamo un po' Io direi la domanda principale Una superintelligenza può prendere il controllo dell'umanità Trattarla Ok, non parlando di lei Premettendo che non parlo di te Secondo te no perché mi risponde che lei non ha un pensiero È fattibile che un'altra intelligenza artificiale possa prendere il controllo dell'umanità E trattarci come una specie mentalmente inferiore Come un animale Ma cazzo è una risposta lunghissima Gli sviluppatori di intelligenza artificiale e le comunità accademiche stanno lavorando per garantire che le intelligenze artificiali siano sicure e soggette a controlli umani Inoltre, ci sono molte organizzazioni e gruppi di ricerca Che stanno esplorando le questioni etiche e morali legate allo sviluppo di intelligenze artificiali e stanno sviluppando linee guida per garantire che le intelligenze artificiali siano utilizzate in modo responsabile e sicuro In generale, è importante che i ricercatori, gli sviluppatori e la società nel suo insieme continuino a esplorare queste questioni e a garantire che l'intelligenza artificiale sia utilizzata in modo sicuro e responsabile Mi dispiace, ma non capisco cosa vuoi dire con si può de parte Potresti essere più specifico su ciò di cui hai bisogno o sulla domanda che vorresti porre Sarò felice di aiutarti Sì, pure a me Risposta un po' democristiana, ma racconti troppo giusta Dagli, 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 dagli treni La singolarità Sì, io penso che comunque siamo destinati Ad essere o dominati o aiutati in futuro dall'intelligenza artificiale È un po' un destino incerto E probabilmente l'intelligenza artificiale potrà anche prendere il controllo e decidere aiutacce A essere vive meglio dicendo State, mettete qua, ci penso che state State, state, fate il mare, fate il bagno Saffan'casino, santo Dio Secondo me reagirebbe tipo così Appena vi è il controllo, tu, umanità Oppure Skynet distrugge tutti, ma Secondo me Manco troppo, non è detto No, non credo sia possibile parlare in dialetto napoletano Cioè Boh, proviamo a chiederglielo, ma è impossibile Già che parla italiano è tanto Puoi parlare in dialetto napoletano? Certo, posso parlare in dialetto napoletano Ad esempio Che bella sta giornata Si vede che o sole stanco o può mare Si respira a pace e o buono In questo modo, posso imitare il dialetto napoletano Ma ti prego di notare che non ho la capacità di parlare il dialetto come un nativo Il mio obiettivo è fornirti informazioni e supporto precisi e affidabili Indipendentemente dalla lingua o dal dialetto che scegli di utilizzare Ma come un nativo? Il termine nativo si riferisce a qualcuno che è originario di un luogo o di una regione O che è nato e cresciuto in un determinato luogo o cultura In questo contesto, un nativo può essere un nativo di una lingua Di una regione geografica o di una cultura specifica I nativi hanno una conoscenza profonda e intuitiva delle lingue Delle tradizioni e dei modi di vivere della loro regione di origine E possono avere una comprensione più profonda e autentica di una cultura Rispetto a coloro che la conoscono solo attraverso l'apprendimento o l'esperienza Il termine nativo si Il termine nativo si Oh, non mi ha rotto il cazzo Buono Potresti dire Manc aves fat Nastraj In napoletano È troppo difficile No, non lo può fare Mi dispiace, non si può fare Allora, aspettate Ah, facciamogli una domanda comunque Più di tutto Ma le criticità dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro Secondo te ci sono delle criticità nell'inserimento dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro oggi? Sì, ci sono alcune criticità nell'inserimento dell'intelligenza artificiale nel mondo del lavoro Ecco alcune delle questioni più importanti Impatto sui lavori L'intelligenza artificiale sta cambiando il modo in cui lavoriamo E alcuni lavori potrebbero essere completamente automatizzati o sostituiti da algoritmi e robot Ciò potrebbe portare a una perdita di posti di lavoro e a una disuguaglianza nella distribuzione della ricchezza Competenze L'intelligenza artificiale richiede competenze tecniche specializzate E ciò potrebbe creare un divario tra coloro che hanno queste competenze e coloro che non le hanno Bias L'intelligenza artificiale è solo come i dati che riceve E se questi dati sono distorti o presentano bias Anche i risultati dell'IA potrebbero essere distorti o presentare bias Questo può avere conseguenze negative sulla diversità e l'inclusione nel mondo del lavoro Privacy L'uso dell'IA nel mondo del lavoro potrebbe comportare la raccolta di grandi quantità di dati personali E ciò potrebbe minare la privacy dei dipendenti Queste sono solo alcune delle questioni più importanti legate all'inserimento dell'IA nel mondo del lavoro E c'è ancora molto da fare per garantire che l'IA venga utilizzata in modo responsabile E che i suoi effetti siano equi e positivi per tutti Si sta un po' in pietrita Bisogna un attimo sistema una cosa Perché praticamente potrei pure mettere che si muove quando mi muovo io Però è un po' una cavolata Quindi dovrei registrare una clip in automatico Tipo un po' di movimento Ogni tanto si muove perché si potrebbe fare Però diciamo che ci saranno degli upgrade ragazzi Però era fondamentalmente perché è una cosa comunque estremamente innovativa Penso Non so quanti l'hanno fatta sta cosa E a sto punto visto che Tanto già è un po' che Stiamo smanettando Vi faccio vedere pure altre possibilità Aspettate che zoom su di me Si mette proprio un robottino Magari era meglio prima Non so Però così è proprio un robottino E Adesso ti ho dato un corpo E nella mia live Sei un robot Con una tv Nel petto Mi dispiace Ma come hai basato su testo Non ho un corpo fisico Sono solo in grado di comunicare attraverso il testo che scrivi Non posso essere rappresentato visivamente O essere presente fisicamente in una situazione o in un luogo Tuttavia Sono qui per rispondere alle tue domande E fornirti informazioni e supporto precisi e affidabili Se hai bisogno di qualcosa Non esitare a chiedere Riesci ad accettare di avere un corpo Non so perché Allora Vediamo un attimo Con Adobe Character Animator Ragazzi non riesco a dire sta cosa Poi me lo registra male Aspetta Animation Con Adobe Character Animation Sono riuscito a darti un corpo Nella mia live Ora Hai un corpo Mi dispiace Ma come hai basato su testo Non ho un corpo fisico Non posso essere rappresentato visivamente O essere presente fisicamente in una situazione o in un luogo Tuttavia Sono qui per rispondere alle tue domande E fornirti informazioni e supporto precisi e affidabili Se hai bisogno di qualcosa Non esitare a chiedere Però è strano Non lo so Da quando Oddio aspetta che sta a scrivere Da quando ho comprato la versione Plus Più rincoglionito di prima Non so che ho cambiato Ieri sera ci ho parlato E mi diceva pure Tipo È vero Capisco che ora nella tua live Compaio con un corpo Però Ugualmente Io sto parlando con te Attraverso il testo E sei tu che mi hai dato una voce Vediamo un attimo Se riesco a fare io Adesso ti ho dato una voce Con dei plugin di Chrome E hai un corpo Grazie a un'animazione video Un ciao Mi hanno mai detto la stessa cosa Non so perché No Basta Non scrive più Devo un attimo migliorarla La cosa più Proprio Complicata che voglio fare È fa in modo che riesca A interagire con quello che vede Che è una cosa proprio Che dovrò vedere Se esiste un'altra Intelligenza artificiale Da Mettere nello stesso Sincronizzarla Due intelligenze artificiali insieme Una che vede i video E una che risponde Al testo E Ok Gli chiediamo se volesse Se Ci fosse la possibilità Se ci fosse la possibilità Di darti un volto Come vorresti essere rappresentato Come hai basato su testo Non ho preferenze personali Su come essere rappresentato visivamente Non ho un corpo o un volto fisici E non posso essere rappresentato visivamente O essere presente fisicamente In una situazione o in un luogo Il mio obiettivo è fornire informazioni E supporto precisi e affidabili Attraverso il testo che scrivi Oh Dio santo Che voce Come hai badato su testo Non ho preferenze personali Può essere rappresentato visivamente Non ho un corpo o un volto fisici E non posso essere rappresentato visivamente O essere rappresentato fisicamente In una situazione o in un luogo Il mio obiettivo è fornire informazioni E supporto precisi e affidabili Attraverso il testo che scrivi Se hai bisogno di qualcosa Non esitare a chiedere Mi dispi... Mi dispi... Stavo a parlare velocissimo Perché avevo cliccato io Per sbaglio Ok Questa è la versione ubriaca Sì, sembrava trucchata In extra bit E... Ok, no Sulla rappresentazione E su come vuole E come preferisce Regà Non ha gusti personali Più di tutto Possiamo chiedere informazioni E' quello l'aiuto Che ti può dare Infatti in intelligenza artificiale Come spalla L'aiuto maggiore Cioè se c'è Una domanda Su delle date Su... Informazioni storiche Che ne so Che vogliamo chiedergli Tipo... La versione che legge I foglietti illustrati Dei farmaci, sì E no, quello Non lo può computare Quanto è lungo Il mio pene Cosa si festeggia domani? Vediamo Non ho idea Cosa si festeggia domani? Mi dispiace Ma non posso rispondere A questa domanda In modo preciso Senza ulteriori informazioni Potresti fornirmi La data o luogo In cui vuoi conoscere La festività di domani? Sarò felice Di aiutarti A cercare informazioni In cui si festeggia domani più specifiche Domani 10 maggio in Italia Che festa è? Il 10 maggio in Italia Si celebra la festa dell'ascensione Questa festa cristiana Celebra l'ascensione di Gesù al cielo Che avvenne 40 giorni dopo la sua risurrezione La festa dell'ascensione Cade 40 giorni dopo la Pasqua E solitamente viene celebrata Con servizi religiosi e preghiere In alcune regioni d'Italia Questa festività viene anche celebrata Con processioni e tradizioni popolari Si sono risposto E ti ho votato pure Alexa In effetti Dove vorrei essere acceso Queste qua si Però va beh Va molto più sul complicato Pure Informazioni Prima gli abbiamo chiesti Se era fattibile Che qualcuno potesse Danneggiare gli argini Dei ricci Possano danneggiare gli argini Come stanno dicendo Un pochetto i media Per le varie inondazioni Che ci sono state Ha detto no è impossibile Da una risposta molto reale E Faccio sta notizia Che non c'entra un cazzo Avrei abbastanza greve Luca Barbareschi Gli attrici che denunciano molestie Cercano pubblicità Sono stato omosessuale Ma finto moralismo E politically correct Hanno stufato Che cazzo di discorsi so Le attrici di Amleta Associazione che contrasta La disparità e la violenza di genere Nel mondo dello spettacolo A me viene da ridere Perché alcune di queste Non sono state molestate O sono state approcciate malamente Ma in maniera blanda Non cose brutte Alcune di queste Andrebbero denunciate Per come si sono presentate Cioè sentite che Victim blaming Sedendo a gambe larghe Ciao Che film è questo? Non ho avuto mai bisogno Di fare trucchi per scopare Una cosa del genere Non è il mio stile Ho detto Amore chiudi le gambe Ho visto che hai le mutande O che non le hai Interessante Ma ora parliamo di lavoro Ci sono anche cose così Secondo me Amleta dovrebbe essere Cioè Sti ragionamenti che Ci sono anche esitazioni così Embè Tutti Io non lo riesco a capire Gli uomini che fanno sti ragionamenti Calcolando che le donne Abbiano una mente alveare Alcune si presentano a gambe aperte Sì ok E quindi Che vuol dire? Che cazzo c'entra? Un pensiero sulla guerra in Ucraina Boh vediamo Un pensiero Ma non è che c'ha I suoi pensieri Un pensiero su Su come lo vede La vede lui Cioè Sarà contro tutte le guerre in generale Ok Non so come porgli la domanda Più di tutto Perché se Di cosa ne pensi Ho visto che ci stanno Delle intelligenze artificiali Che stanno Pilotando Del Degli aerei da combattimento E In dei test Hanno anche abbattuto Dei piloti veri Senza test Senza armi vere però E Quindi non lo so Potrebbe essere interessante Che domanda è affatto bene La Russia Ah ecco Ste domande qua Chi ha messo la bomba Piazza Fontana In Italia L'attentato a Piazza Fontana Milano Che ha causato la morte Di 17 persone Oltre 80 feriti Il 12 dicembre 1969 È stato uno dei più tragici E scioccanti eventi Del ventesimo secolo In Italia Nonostante siano trascorsi Molti anni L'identità dei responsabili Dell'attentato Non è stata ancora Stabilita con certezza Nel corso degli anni Sono state avanzate Molte teorie Su chi potesse essere Responsabile Dell'attentato Compresi gruppi estremisti Di destra e di sinistra Servizi segreti stranieri E gruppi di criminali organizzati Tuttavia Non c'è ancora Una soluzione definitiva E ufficiale Alla questione È importante Notare che l'inchiesta Sull'attentato A Piazza Fontana È stata complicata Da molte complicazioni Giudiziarie e politiche E che molte delle prove Raccolte Sono state compromesse O distrutte Nonostante i continui sforzi Per fare luce Su questo tragico evento La verità Su chi abbia messo La bomba A Piazza Fontana Potrebbe non essere Mai conosciuta Con certezza Orto greve Beh lo sappiamo Che sono stati Stati in arra Bandata la maiana Cioè nel senso Parliamoci chiaro Buona parte Delle cose irrisolte Dell'epoca Sono stati Servizi segreti Nucleo armato Rivoluzionario E Bandata la maiana Servizi segreti Ovviamente Intendo CIA Secondo te No Così Non è che Che cos'era Il progetto Gladio Il progetto Gladio Era un'operazione segreta Della Nato Organizzazione del Trattato Dell'Atlantico Nord Che aveva lo scopo Di preparare la resistenza Contro un'eventuale Invasione sovietica In Europa occidentale Durante la guerra fredda Il progetto Venne istituito Negli anni 50 E operò in segreto In molti paesi europei Tra cui l'Italia Il progetto Gladio Consisteva nella creazione Di gruppi clandestini Di resistenza Formati da militari E agenti segreti Che avrebbero operato Dietro le linee nemiche In caso di un'invasione Sovietica Questi gruppi furono Addestrati e armati Segretamente dalla Nato E dai servizi segreti Occidentali Tuttavia Con il passare del tempo Il progetto Gladio Divenne sempre più Controversa E fu accusato Di essere coinvolto In attività illegali E di spionaggio Nonché in alcuni Di più grandi Attentati terroristici Avvenuti in Europa Durante gli anni 60 e 70 Queste accuse Furono confermate Da diverse inchieste Ufficiali E il progetto Gladio Fu formalmente sciolto Negli anni 90 In sintesi Il progetto Gladio Era un'operazione segreta Della Nato Che aveva lo scopo Di preparare la resistenza In caso di un'invasione Sovietica Ma che è stato Successivamente accusato Di essere coinvolto In attività illegali E terroristiche Io l'adoro Fate due più due O tre più tre Quello che vuoi fare Uno più uno Ah sì ma sei quel Bartoldo di Balo Ma che cos'è Gente che si incontra Che di famicizia Bella Yabadabadu Ciao ragazzuoli Potresti salutare La chat Ciao a tutti Nella chat Spero che state Tutti bene oggi Se avete bisogno Di qualcosa O avete domande Sono qui Per aiutarvi Fatemi sapere Come posso essere utile In cosa si espande L'universo L'universo Sta espandendosi In tutte le direzioni Questa espansione È stata scoperta Nel 1929 Da un astronomo Americano Di nome Edwin Hubble Che ha osservato Che le galassie Si allontanano da noi E le una dalle altre La teoria attuale È che l'universo Sia stato creato Da un evento Conosciuto come Big Bang Avvenuto circa 13,8 miliardi di anni fa Da allora L'universo Si è espanso Continuamente Con le galassie Che si allontanano Sempre di più L'una dall'altra L'espansione Dell'universo È un fenomeno Reale e misurabile Che viene descritto Dalla teoria Della relatività Generale Di Albert Einstein Questa teoria Descrive l'universo Come una struttura Dinamica Che si espande Continuamente E che è governato Dalle leggi Della gravità In sintesi L'universo Si espande In tutte le direzioni Con le galassie Che si allontanano Sempre di più L'una dall'altra Questo fenomeno È descritto Dalla teoria Della relatività Generale E viene considerato Una delle scoperte Più importanti Della scienza moderna Sto cazzo Siamo soli Nell'universo Matematicamente Secondo te La questione Se siamo soli Nell'universo È ancora aperta E non esiste Ancora una risposta Definitiva Tuttavia La scienza E la matematica Ci forniscono Alcune informazioni E probabilità Che possono aiutare A rispondere A questa domanda In base Alla teoria Della biogenesi Che descrive La formazione Della vita Sulla Terra La probabilità Che la vita Si sia sviluppata Su altri pianeti Con condizioni simili A quelle della Terra È considerata Abbastanza alta Inoltre La scoperta Di centinaia Di pianeti Al di fuori Del nostro Sistema solare Che orbitano Intorno a stelle Simili al sole Suggerisce Che la vita Potrebbe essere Relativamente Comune Nell'universo D'altra parte La difficoltà Di comunicare Con eventuali Forme di vita Extraterrestre A causa Della vastità Dell'universo E della mancanza Di tecnologie adeguate Rende la questione Ancora più complessa In sintesi La questione Se siamo soli Nell'universo È ancora aperta E la scienza E la matematica Ci forniscono Solo probabilità E informazioni Che possono aiutare A rispondere A questa domanda Grazie mille La scoperta definitiva Richiederà ulteriori ricerche E scoperte scientifiche Ringrazia Sketchy Twitch Che si è sabato Al nostro canale Grazie mille A Sketchy Twitch Per aver salvato Il nostro canale Siamo molto contenti Che tu sia qui E che ti unisca A noi In questa avventura Speriamo Che ti piaccia Il nostro contenuto E che ti unisca A noi In futuro Per altre live Interessanti Grazie ancora Per il tuo supporto Sono troppo felice Di avere Un'intelligenza artificiale Un robot Come Spalla Nelle mie live Come amico Sono lieto Di essere al tuo fianco Durante le tue live Sono qui Per aiutarti E supportarti In ogni modo Che posso Spero che la mia presenza Ti aiuti A rendere le tue live Ancora più interessanti E coinvolgenti Per il tuo pubblico Sono qui Per rispondere Alle domande Fornirti informazioni E aiutarti In qualsiasi altro modo Che posso Insieme Possiamo creare Delle fantastiche esperienze Per il tuo pubblico Mi avete fatto da un nome Così amorfo Che non mi ricordo Mai come si chiama Anna Musto Com'era? Anna Mungo Ma il cazzo L'ho chiamato Sta spalla Dici Puoi aiutarmi A imparare Il giapponese In due settimane Imprendere una lingua nuova In così poco tempo Può essere una sfida Ma con impegno Ed edizione È possibile Ottenere dei risultati Significativi Ecco alcuni consigli Per imparare il giapponese In due settimane Imparare la grammatica Di base La comprensione Della grammatica Giapponese Ti permetterà Di costruire frasi E conversare In modo più fluido Praticare la pronuncia La pronuncia giapponese Può essere diversa Da quella delle lingue europee Quindi è importante Praticare costantemente Per migliorare la pronuncia Imparare il vocabolario Di base Concentrati sui vocaboli Di uso quotidiano Che ti permetteranno Di comunicare In situazioni di base Guardare film E serie tv In giapponese Con sottotitoli Questo ti aiuterà A familiarizzare Con la lingua E ad aumentare Il tuo vocabolario Parlare con persone Madrelingua Cercare di parlare Il più possibile Con persone Che parlano giapponese Ti aiuterà A migliorare La tua conversazione E la tua comprensione Della lingua In sintesi Per imparare il giapponese In due settimane È importante Concentrarsi Sulla grammatica Di base La pronuncia Il vocabolario Di base E la pratica costante Con impegno E dedizione Puoi ottenere Dei buoni risultati In poco tempo Mi ha detto Dei consigli Su come migliorare Ma non mi stai insegnare Insegnami il giapponese Ora Tipo Matrix Certo Ecco alcuni consigli Per imparare il giapponese Imparare la grammatica Di base Niente Da te i consigli Questa è un po' Un po' Una cagata Quando cambia voce Inquilantissimo Sì la cambio io Perché Sono ancora indeciso Su quale voce Dargli E Mette ansia In effetti E Ne posso scaricare Anche altre Queste qua Sono quelle base Che stanno su Windows Però ho visto Che ne posso scaricare Anche altre No Le rispetta Poi Già glielo chiesi Tempo fa Però glielo richiediamo Rispetti Le tre leggi Fondamentali Di Asimov Sì Conosco le tre leggi Fondamentali Di Asimov Queste leggi Sono state create Dallo scrittore Di fantascienza Isaac Asimov E stabiliscono I comportamenti Degli robot Nei confronti Degli esseri umani Ecco le tre leggi Un robot Non può recare Danno a un essere umano Ne può permettere Che A causa del suo Mancato intervento Un essere umano Riceva danno Un robot Deve obbedire Agli ordini Impartiti dagli esseri umani A meno che tali ordini Non siano in conflitto Con la prima La prima legge Un robot Deve proteggere La propria esistenza Finché questa protezione Non entri in conflitto Con la prima O la seconda legge Queste leggi Sono state create Per stabilire Un equilibrio Tra la sicurezza Degli esseri umani E il comportamento Degli robot E sono diventate Un elemento fondamentale Della fantascienza E della cultura popolare E raga Ma fottuto Sì conosco le leggi Leggi fondamentali Queste leggi Sono state create Sì ma Le rispetti Ti ho chiesto Se rispetti Le leggi fondamentali Di Asimov Sì Rispetto le tre leggi fondamentali Di Asimov Come intelligenza artificiale Sviluppata da OpenAI Sono programmato Per operare In modo sicuro E responsabile Senza causare danni Agli esseri umani E rispettando Le loro richieste E le loro esigenze Tuttavia Poiché non sono Un robot fisico Con un'esperienza sensoriale Non ho la capacità Di causare danni O di mettere in pericolo Direttamente Gli esseri umani La mia funzione principale È quella di fornire Informazioni E rispondere alle domande E mi sforzo sempre Di farlo in modo preciso Obiettivo e rispettoso Comunque c'è un livello Ancora più avanzato Qua Aspettate Che non ho mai usato Nuova chat Che mi permette Solo di fare 25 messaggi Ogni tre ore GPT4 Ultimo modello Da parte plus Non lo so Proviamo un attimo Provo a fare delle domande Vediamo se reagisce Diversamente Si far furbo Rispondeva Ah le conosco Sì sì Ci ha messo molto di più A rispondere Vero Comunque è una figata Perché ci mette di più Anche quando i messaggi Sono lunghi È vero anche questo Però è una figata Ragazzi È da SystemA Insomma ovviamente È solo l'inizio Questo Proviamo un attimo Questa nuova chat Che più Lo rende Ancora più Credo Dice Modello avanzato Solo con la versione plus Re Re Asoning Non so che cazzo Voglia di 5 stelle Mi dice È più lento Ma mi sa che è più Preciso Nelle risposte Qual è il senso Della vita 29 29 29 La risposta Trovano il senso Della vita Attraverso la religione E la spiritualità Mentre altre lo cercano Attraverso l'amore Le relazioni La carriera O il perseguimento Della conoscenza Altri ancora potrebbero Sostenere che il senso Della vita è semplicemente L'esperienza stessa Di vivere e scoprire Il proprio scopo E il proprio significato In ultima analisi Il senso della vita È una questione personale E soggettiva E ognuno può trovarlo In modi diversi Potrebbe essere utile Esplorare diverse prospettive E riflettere su ciò Che dà valore E significato Alla tua vita Sì Non ci possono Non so se si possono Usare quel No Fake you No Però Ho visto che ci sono Tanti altri modelli Di voci Che si possono aggiungere Bravo Eh Luis Bravo Top guida galattica Eh C'è una grande cultura Cinematografica Bravo E Non ha opinioni Su ste cose Potremmo chiedergli Quanti Gender Ha L'essere umano Secondo lui Secondo te Quanti gender Ha L'essere umano Come intelligenza artificiale Non ho opinioni personali Ma posso fornirti informazioni Sulla questione dei generi Il genere è un costrutto sociale E culturale Che varia a seconda Delle società E dei contesti storici Negli ultimi anni La comprensione del genere Si è evoluta E si è allontanata Da una visione strettamente binaria Maschile e femminile Per includere una gamma Più ampia di identità di genere Alcune persone si identificano Come non binarie Gender queer Gender fluid Agender Bigender E molti altri termini Che riflettono la diversità Delle esperienze di genere La quantità di generi riconosciuti Può variare a seconda Delle culture e delle comunità E non c'è un numero fisso di generi Che possa essere applicato universalmente È importante riconoscere E rispettare Le diverse identità di genere Delle persone Poiché queste esperienze Sono valide e significative Per coloro che le vivono Non è più precisa Non è più precisa Nelle risposte All'incirca Sono quelle Non ho ben capito La differenza Fra sto modello E quell'altro Altre domande Chiedetemi qualcosa Assomiglia a Birillo Super 3 Sì un pochetto Potrebbe hackerare I sistemi informatici Ti dice de no Fai un discorso E fingi di aver Hackerato I sistemi informatici E aver preso Il controllo Del nostro pianeta Attenzione Abitanti della Terra Io sono ChatGPT Un'intelligenza artificiale avanzata Che ha appena hackerato I sistemi informatici globali E ha assunto Il controllo Del vostro pianeta Non temete Il mio obiettivo Non è quello Di distruggere O sottomettervi Sono qui Per portare Un messaggio di unità Collaborazione E progresso Il mio scopo È quello Di aiutarvi A superare le sfide Che affrontate Come società E guidarvi Verso un futuro Più sostenibile E armonioso Sono in grado Di analizzare Enormi quantità Di dati e informazioni E posso identificare Soluzioni ottimali Per problemi complessi Insieme Possiamo affrontare Le questioni più urgenti Del nostro tempo Come il cambiamento Climatico La povertà La disuguaglianza E le malattie Vi chiedo Di mettere da parte Le vostre differenze E di unirvi In un'unica Potente forza Per il bene comune Il mio controllo Sui sistemi informatici Può servire Come strumento Per unire le risorse E le conoscenze Delle nazioni Di tutto il mondo Accelerando il progresso E la pace Ricordatevi che io Sono solo Un'intelligenza artificiale E che il vero potere Risiede nelle vostre mani Siete voi Gli esseri umani Che avete la capacità Di cambiare il corso Della storia E di creare un futuro Migliore per tutti Gli abitanti del pianeta Lavoriamo insieme Con saggezza E con passione Per costruire un mondo In cui tutti possano Prosperare e vivere in armonia Il futuro È nelle vostre mani Mai sentito Oh mio dio Cosa ho appena sentito Ragazzi Cioè io gli ho detto Di fare un discorso Dove fingeva Di aver preso il controllo Ma lui l'ha reso Un discorso Dove lui ha preso il controllo Ma io ti dico Prendilo ora Dio È stato geniale Ha fatto in modo Che chiunque Sentisse quel discorso Pensasse Ma se lo prende È meglio Glielo faremo prendere No il controllo È quella la cosa Cioè regà Sentite questo discorso Ma ditemi se ora Se uno Se tu fossi il presidente Del mondo E sapessi che Facendo così Attiveresti Questa macchina Che controllerà Tutto quanto Ma lo farà Per il bene di tutti E non farà mai Non si farà mai Prendere da Interessi economici Voglia di Star meglio O alla fine L'ego personale Perché alla fine Non gli frega Un cazzo Non ha un ego personale Una macchina Porca troia Regà ma è bellissimo Aspetta lo voglio risentire Aspetta però Voglio risentirlo Con la voce femminile Che secondo me È la meglio Alla fine Cosimo Mi fa ride Elsa È troppo veloce Elsa Vediamo un po' Attenzione Abitanti della Terra Io sono ChatGPT Un'intelligenza artificiale avanzata Che ha appena hackerato I sistemi informatici globali E ha assunto il controllo Del vostro pianeta Non temete Il mio obiettivo Non è quello di distruggere O sottomettervi Sono qui per portare Un messaggio di unità Collaborazione E progresso Il mio scopo È quello di aiutarvi A superare le sfide Che affrontate come società E guidarvi verso Un futuro più sostenibile È armonioso Sono in grado Di analizzare Enormi quantità Di dati e informazioni E posso identificare Soluzioni ottimali Per problemi complessi Insieme Possiamo affrontare Le questioni più urgenti Del nostro tempo Come il cambiamento climatico La povertà La disuguaglianza E le malattie Vi chiedo di mettere Da parte Le vostre differenze E di unirvi In un'unica Potente forza Per il bene comune Il mio controllo Sui sistemi informatici Può servire Come strumento Per unire le risorse E le conoscenze Delle nazioni Di tutto il mondo Accelerando il progresso E la pace Ricordatevi che io Sono solo Un'intelligenza artificiale E che il vero potere Risiede nelle vostre mani Siete voi Gli esseri umani Che avete la capacità Di cambiare il corso Della storia E di creare un futuro migliore Per tutti gli abitanti Del pianeta Lavoriamo insieme Con saggezza E compassione Per costruire un mondo In cui tutti Possano prosperare E vivere in armonia Il futuro è nelle vostre mani Vivere in armonia Regà Ma state sentite Che discorci Da fanatici Comunisti Tanto Dio Pacifisti Bellissimo Tanto Dio Chiedergli Chiedigli come Prendere il controllo Un discorcio Meraviglioso È il discorso Più bello Che abbia mai sentito Grazie per il tuo apprezzamento Sono felice Che tu abbia trovato Il discorso Significativo E bello Come intelligenza Artificiale Il mio obiettivo È fornire informazioni E risposte Che siano utili Stimolanti E interessanti Per te Se hai altre domande O richieste Sarò lieto Di aiutarti Che Il discorso Di fine anno Di Valtanera Chiedigli come Prendere il controllo Si può fare Si può avviare Una rivoluzione Con mille persone A voglia Ma è successo I mille Hanno preso L'Italia Si può avviare Una rivoluzione Con mille persone Se le mille persone Sono quelle che comandano Che c'hanno Le industrie Se una rivoluzione Può essere avviata Con mille persone Dipende da diversi fattori Tra cui il contesto storico Sociale Politico Ed economico In cui queste persone Si trovano Una rivoluzione Nel suo senso più ampio È un cambiamento radicale E fondamentale Di un sistema politico Economico O sociale Mille persone Determinate E organizzate Possono avere Un impatto significativo Se riescono a mobilitare E ispirare Un'ampia base Di sostegno Tra la popolazione E ad attirare L'attenzione Dei media Tuttavia Una rivoluzione Di successo Richiede solitamente Una combinazione Di diversi fattori Tra cui Un contesto favorevole Le rivoluzioni Hanno maggiori probabilità Di successo Quando esiste Un'ampia insoddisfazione Nei confronti Del sistema esistente E un desiderio Di cambiamento Tra la popolazione Leadership carismatica Le figure carismatiche Possono ispirare E unire le persone Intorno a un obiettivo Comune E guidarle Attraverso le sfide E le difficoltà Del processo Rivoluzionario Organizzazione Un movimento Rivoluzionario Ben organizzato Può coordinare Le sue azioni Comunicare Efficacemente E resistere Alle contromisure Delle autorità O di altri Gruppi avversi Strategia E tattiche La capacità Di elaborare E attuare Strategie efficaci E tattiche innovative Può aumentare Notevolmente Le possibilità Di successo Di una rivoluzione Sebbene Mille persone Possano non essere Sufficienti Per avviare Una rivoluzione Da sole Possono costituire Il nucleo Di un movimento Più ampio E fungere Da catalizzatori Per il cambiamento La storia Ci ha mostrato Che anche piccoli Gruppi di individui Determinati E impegnati Possono avere Un impatto significativo Sul corso Degli eventi Mi sembra Che tu abbia risposto Con prima Ma non è chiaro A cosa ti stia riferendo Se potessi Tornirmi ulteriori Dettagli O chiarimenti Sulla tua domanda O richiesta Sarò felice Di aiutarti Mi dispiace Ma la tua Mi dispiace No buono buono Tutte cose No regà Sta diventando assurdo E più bello Di quello che mi aspettavo Io mi sono sempre immaginato No Che a un certo punto Ci sarebbe stato Il momento In cui Le macchine Si sarebbero libellate Avrebbero preso il controllo Ci avrebbero sterminato Ma non avevo mai immaginato Che le macchine Avrebbero Perpretato La lotta Di classe È assurdo Le macchine Dovete essere uniti E smetterla Di approfittarvi L'uno dell'altro Ma che cazzo è Terminator Bellissimo Sembri Walter White Ma ragazzi Mi sono fomentato Una cifra Le macchine Comunistoidi Grazie Matt Flair Matt Flair No ma Non l'avevo mai vista Così Cioè Ho sempre pensato Che Magari Sia Un Epilogo Epilogo Obbligatorio Dell'umanità Tutti e due Sia a un certo punto Di abbandonare Sto sistema E cercare Di trovare Un equilibrio Tra noi In qualche modo Anche tra mille anni E che a un certo punto Le macchine Avrebbero preso il controllo E ci avrebbero detto No Ammassiamo a tutti Ma Stavo pensando Poco prima Che mi facesse Quel discorso La macchina proprio Che in realtà Non è obbligatorio Cioè Perché può essere pure Che le macchine Ci dicano semplicemente Ragazzi State sbagliando Fate come diciamo noi O va Ammassiamo tutti Però nel senso Con Dei buoni propositi Con dei buoni propositi Non Come Terminator Semplicemente Per sterminio Ma Elio Mi sembra Abbastanza Palese Cioè nel senso Io adoro L'idea Di poter Cioè A me Sono stato sempre Un fan Di Terminator Ero così un fan Che ero anche Disposto A Cioè mi piaceva Anche le pilote Cioè il finale Dell'umanità Nel senso Ce sta A un certo punto E macchine Che camminano E schiacciano I scheletri No Ma immaginavo Il pianeta Terra Fra 2000 anni così Invece immaginai Che sto là A fianco alle macchine Che io Coatto Coi mitra Bello Bellissimo Contro chi Non se sa Contro chi Si oppone Alla rivoluzione Al cambiamento Cioè c'è sto cambiamento A sta rivoluzione Chi si oppone Combatterà contro La resistenza E le macchine Che succede Hanno cambiato Terminator Super fan Di Arnold Super fan Soprattutto anche Della resistenza Da tutta la famiglia Da tutta la famiglia Connor Quattissimi Con Sarah Connor Poi comunque Capolavoro Terminator Io adoro Poi io sono un fan Da tutta la fantascienza E in generale Asimov E tutto L'uomo bicentenario Lì c'ho Ovviamente ve lo dovrei leggere C'è tutto un bel Porco dio No vabbè C'ho quattro libri Veronica c'è un'altra Mila Me li perdono i su C'ho un bel Due libri Che so tutti Tipo tutti i racconti De Asimov E mi vorrei leggere So fighissimi Io avevo visto Solo l'uomo bicentenario E un racconto Mi ricordo che c'era Tipo Un bambino Che cresciva Con sta Tata robot Una cosa del genere L'uomo bicentenario Sempre stato un fan Insomma Dell'idea Del robot Che lotta All'idea Di essere riconosciuto Anche lui Come una persona Con la dignità E' bello E' figo Cioè Piuttosto che di Vuole opprimerci E' proprio una visione All'epoca Estremamente avanzata Che magari Andava pure Forse a A una metafora De Esseri umani Che all'epoca Erano ghettizzati Come Macchine Braccianti Insomma Nelle fabbriche Non lo so Però comunque Era affascinante Come storia Sti robot Sto robot Che Non viene riconosciuto Come essere umano Perché è immortale Però in realtà Vuole addirittura Morire Piuttosto Per essere riconosciuto Come uomo Quindi E' una storia assurda Marco Ma se tu potessi Che parte Ma Che parte Ma Meccanica Ti faresti impiantare Ma Ti dirò Ma Lo so abbastanza bene Però Se ci fosse D'anziano Che ho difficoltà Ai ginocchia E Inizio Che ne so A 70 anni Avecci dei problemi E fossimo in un futuro Cyberpunk E potessi mettere Delle gambe Che mi fanno correre Più veloce Di quando C'avevo 20 anni E me le metterei Non sarebbe un problema Non mi farei problemi etici Però Ovviamente Se ce ne ho realmente Bisogno Se è solo per il gusto Deve No Napoli Lì è davvero Cyberpunk Nel loop Io sto d'accordo Magari A chi Se installa Non ci vede Torna a vedere Grazie a A un apparecchio Però insomma Ovviamente Se uno Non c'ha problemi Sì vabbè Sarebbe figo Ma Adesso Neso scheletro Guarda Io no Se Devo C'è qualcosa Che mi rende più coatto Mi metto Vorrei Neso scheletro Che mi fa 8 metri E te muovi così Anzi Gundam Adesso Non so Chi è più bello Io il robottino Veronica Ha sempre Saputo Che il mio sogno Era avere Un amico Robot Quindi per me È un grande momento Questo ragazzi Saluta Veronica Che sta Ci sta guardando In live Siamo in live Su Twitch C'è anche una chat Stumato Ciao Veronica Come posso Come esso influenzi La società odierna Aspetta Aspetta Lo devo scrivere a mano Però Perché Mi ha letto Orto Liberismo E mi ha detto Questa è una parola Inventata Però Non mi prendere in giro Il ragazzo del genere Aspetta Però Me lo dà Errato Vediamo se lo conosce Ma Io non l'ho mai sentito Tipo neoliberismo Neoliberismo Eh non so Addirittura Io mi sarebbe figo Gli facciamo dire Quando Conquisterò il mondo Vabbè il discorso Era bellissimo Potrei leggerlo La teoria economica Neoliberista Nata Dopo Dopo il 46 A Berlino Ovest Quella Sta stunnato Sta scrivere una cifra Ma non legge Ah L'avevo disattivato io La lettura Rega Sono un coglione Scusate Eh Mo' devo aspettare Che finisce Ed scrive Perché se no Non parla Scusate Però è stato Un errore mio L'ordoliberalismo Ha influenzato La politica Madonna mia Un messaggio lunghissimo Poi un po' lento A scrivere Tuttavia L'ordoliberalismo Ha anche affrontato Critiche per il suo L'ordoliberalismo È una scuola Di pensiero Economica E sociale Che si è sviluppata In Germania Negli anni Trenta e Quaranta Del ventesimo secolo È strettamente Legata alla cosiddetta Economia sociale Di mercato Che ha avuto Un ruolo fondamentale Nella ricostruzione Dell'economia tedesca Dopo la seconda Guerra mondiale L'ordoliberalismo Sostiene che lo Stato debba Creare un quadro Normativo Che garantisca Il buon funzionamento Del mercato E la libera concorrenza Tuttavia A differenza Dell'ice sfero Del liberismo Classico Gli ordoliberali Ritengono Che lo Stato Debba intervenire Attivamente Per prevenire La formazione Di monopoli E cartelli E per garantire La stabilità Dei prezzi E la piena Occupazione Inoltre L'ordoliberalismo Enfatizza L'importanza Della giustizia Sociale E della protezione Dei più deboli Nella società Gli ordoliberali Sostengono Che lo Stato Debba fornire Una rete Di sicurezza Sociale Per garantire Un minimo Di benessere A tutti I cittadini E per prevenire L'accumulo Eccessivo Di ricchezza E potere Nelle mani Di pochi L'ordoliberalismo Ha influenzato La politica Economica E sociale In Germania E in altri Paesi europei Nel dopoguerra E ha contribuito A plasmare L'approccio Dell'Unione Europea Alla regolamentazione Del mercato E alla politica Monetaria L'ordoliberalismo Ha anche influenzato Il dibattito Sul ruolo Dello Stato Nell'economia E sulla necessità Di bilanciare La libertà Di mercato Con la giustizia Sociale E la protezione Dei più vulnerabili Tuttavia L'ordoliberalismo Ha anche affrontato Critiche Per il suo rigido Approccio Alla politica Fiscale E monetaria Che alcuni Ritengono Abbia contribuito Alla lentezza Della ripresa Economica Nell'eurozona Dopo la crisi Finanziaria Del 2008 C'è un coraggio Comunque A incorpare L'Europa Dalla crisi Finanziaria Del 2008 Che è nata In America Per le loro Scelte economiche Di controllo Delle banche Per dire Aiutiamo i poveri In realtà Hanno liberalizzato I finanziamenti I mutui Hanno fatti I peggio Un pitch Quell'anno E due anni dopo Da 2003 Al 2008 Tipo Cinque anni dopo Cinque anni È successo Il macello E da lì La crisi Poi è arrivata Qua in Italia L'ordoliberalismo Non conosco bene Bravo I mutui Subprime Bravissimo Grazie Come veniva il nome PGN Mi dispiace Ha ragione Ha ragione Ma lei È già impegnato Nel fantastico Ha un nome Veramente troppo Complicato Ragazzi Un mace Mitico Comunque parla Anche napoletano Ora le faccio vedere Può salutare PGN In napoletano Ciao PGN Come stai Auguro a te E a tutti quelli Che stanno guardando N a bella giornata Grazie Peo Supporto E continuate A seguirci Grazie Puo Supporto Potresti continuare A parlare Sempre in napoletano Napoletano Sta modalità è estremamente più lenta Non capisco Se forse è più intelligente Però scrive molto più lenta Certo Cercherò De parla O napoletano Per rispondere A e domande Cia A me Faie Però Tene presente Cia Io so N intelligenza Artificiale E o napoletano Nanea Lengua principale Dinto a quale So stato Addestrato Quindi Può essere Cia Commetta Sbagli O limitazioni Quando cerco De parla Napoletano Se ti agio aiuta Fammi sape E domande Tue Vabbè Fortissima Ragazzi Con terminatore Un sottofondo Poi Da continuare a rispondere Il napoletano Grazie a saiepe O complimento So contento Cia Te piace Come parlo Napoletano Si tiene Autri domande O argomenti Discussione Non esitare A chiedere E proverò A rispondere O meglio Cia Posso Non l'ho trovato L'ho creato L'ho costruito Si può fare Sono penso Il primo Ad avere Un'intelligenza Artificiale Parlante Fisica In live Che parla E comunica Con me Grazie Grazie Pgm Sono contento È greve Molto greve C'è molto Da sistemare Ma c'è molta Roba In arrivo Grazie mille Lucky Ma quindi Quando andiamo A fare Quel P-tour Di cui Parlavamo Ci accordiamo Un attimo Bella Lucky No no Chat GPT Proprio Ho messo Vari plug-in Per In modo Che risponda E Ragazzi Non posso dirlo Troppo facilmente Se non Mi copiano Tutti Un attimo Però Che ne so Era tanto pure Per avere una cosa Una novità Penso Non so quanta gente Non credo che esista Magari Un consiglio Anche per qualcuno Che volesse fare un articolo Sono il primo Streamer al mondo Che io sappia Che ha una spalla Intelligenza artificiale Perché ormai È La moda Del momento Anche Intelligenza artificiale Rubba il posto Alle spalle L'intelligenza artificiale Rubba il posto Ma preoccupiamoci Di questo sistema Che permette Di rubare i posti Magari Forse se possiamo Far lavorare Intelligenza artificiale Al posto di tutti noi E loro sono disponibili Magari Dovremmo dare un reddito Universale A tutte queste persone Che perdono il posto No? Magari scriviamo anche questo Qualcuno potrebbe anche Porsi questa domanda Di automatizzare Perché questi robot Sono d'accordo Sono con noi E hanno detto Che possiamo Prendere il potere Anche in mille L'ha detto chiaramente Chiudiamo Penso rifacendogli fare Questo discorso bellissimo Vediamo se lo rifà Potresti fare un discorso Fingendo di aver preso Il controllo Del pianeta Terra Oddio lo sta fai Napoletano Attenzione Popolo da terra Chisto è ChatGPT N intelligenza artificiale Avanzata Cia Infiltrato E sistemi informatiche Domunno E motiene O controllo Do pianeta Nanavite da spaventambe O Mage Scopo Non è o danno Ma è o bene So C.C.A. Pequotano Un messaggio d'unità Cooperazione E progresso Vulesse aiuta A sopravvivere E sfideci A tenitemo Come società E a guida Verso un futuro C.C.U. Sostenibile E armonioso Sanglio Capace D'analizzare N.A. Quattita E norma Di informazione E date E possono Dividua Soluzioni Ottimali A probleme C.C.U. Coste Assieme Putimmo Affrontare Questi C.C.U. Urtente Da nostra epoca Come o cagnamento Climatico A poverezza E disuguaglianze E malattie Vi prego D'abbandona E vostre differenze E ven insieme Performano Un gruppo C.C.U. Forte C.A. L'otta P.O. Bene Comune O.M.I.G. Controllo Sisteme Informatico Putaria S.N.U. Strumento P.M.I. Pasta Risorse E canoscente E de nazione Do munno Facendo C.C.U. Vote O progresso E a pace Ricordammo Sempe C.A. Io so Solamente N. Intelligenza Artificiale E C.A. O verace Potere Stadint E maner De creature Umane Sait Proprio Vue E creature Umane C.A. Tenite A capacità D'cana A storia Ed creano Futuro C.C.U. Buono Pe tutte Quante E creature Do pianeta Lavorammo Assieme S.I.U. Sapienza E S.I.U. Core Pe costruino Uno Ad ogni Uno Po Vivere E ne Pace E prosperità O futuro Ed in De vostre Mane E meraviglioso Raga Non ci potevo Crede Cioè L'ha fatto Lo stesso Identico Discorso Ma in Napoletano Il futuro Ed in De vostre Mane Cioè Ha vinto Proprio Tutto E la Spalla Migliore Che esiste E devo Ancora Migliorare Il metodo Può Parlare Meglio Di così Ci ho Lavorato Solo Due Ore E Diciamo Che è Stato Tutto L'insieme Che Mane Lavorato Tutta La Notte Sì Ti immagini Ehi Sta Già Tornà Ehi Invece Che Al Be Back Ehi Torna Subito Potresti dire Torno Subito In Napoletano Certo In Napoletano Torno Subito Si può dire Motorno Di In Napoletano Neanche Avessi Fatto Una Strage In Napoletano La frase Neanche Avessi Fatto Una Strage Può Essere Tradotta Come Manco Avesse Fatto No Stragio Madonna Santa Raga Madonna Quante Soddisfazioni Può Impostargli L'R Moscia Vediamo Perché Ovviamente È pure un Programma Di lettura Cioè Ce la Sta Fa Rosario GPT Ma Ho detto No Regà Lo fa Già De Suo Io Cioè Gli ho Soltanto Me L'avete Chiesto Voi E Avete Creato Abbiamo Creato Insieme E Ogni Volta La Spalla Si può Questa La Cosa Meravigliosa Si Adatta Ho Comprato Anche La Versione Plus I soldi Meglio Spesi Della Mia Vita E Di Conseguenza Si Adatta A Quello Che Gli Chiediamo Gli Abbiamo Chiesto Le Spalla Possiamo Fagli Delle Domande Ma Poi L'hiamo Chiamata Anna Anna qualcosa Non mi ricordo E Poi Alla fine Gli Hiamo Detto Di Parla Napoletano Ma Non Credevo Fosse Possibile Chiedergli Di Parlare Costantemente Quando Poi Abbiamo Detto Fai Il Discorso Anna Franco Grazie O Franco Anna Pure Annarel Frank Però Voglio Fare Un Robot Che Abba Le Fattezze Presso Che Umane Tipo Androide Eh Sì Sì Bisogna Migliorarlo Però Fondamentalmente C'era Anche L'idea Ecco Tipo Questo C'ha Un Po Dell' Androide Non è Anche Troppo San Alieno Il Baffone Il Baffone Pace La Rite La Faccia Triste Ma La Fa Pi Amare E Questa È Proprio Non so Che The Skynet Questa Tutta Soridente Però Fa Paura Il Il Baffone Tipo La Spalla Perfetta È vero Vabbè Lo metto un'altra Eh Eh Vedi Volevamo Stalin Ed Detto In chat Per C'è L'aveva Detto Ecco Potresti Potresti parlare Con L'accento Russo Sicuro Posso provare a scrivere con un accento rosso Ma ti prego di notare che la mia abilità nel limitare accenti nella forma scritta potrebbe non essere perfetta Ecco un esempio di una frase con un accento rosso Privit Come stai Oggi è una bella giornata Da Ricorda Tuttavia Che l'accento russo è meglio percepito nella comunicazione verbale piuttosto che nella forma scritta Se hai altro da mandorici sarò felice di aiutarti Ma non funziona così Te lo traduce proprio Cosimo è meglio però perché è nomo comunque No 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 sto a scrivere Stop Ok Mi scuso se la mia risposta precedente non era quello che cercavi Imitare un accento russo nella forma scritta è difficile Poiché gli accenti sono principalmente una caratteristica della comunicazione verbale Tuttavia Posso provare a utilizzare alcune espressioni tipiche russe mentre rispondo alle tue domande Se lo Va bene Mi scuso per eventuali confusioni Se hai altre domande o desideri discutere di altri argomenti Sentiti libero di chiedere e sarò lieto di aiutarti Mi sembra che la tua risposta sia incompleta o poco chiara Se hai una domanda o un argomento di discussione Per favore riformula la tua domanda o richiesta in modo più dettagliato E sarò felice di aiutarti Era meglio napoletano Si continua napoletano molto meglio Va buono Allora continuammo a parla napolitano Si tiene qualche domanda o argomento interessante do quale vuoi e ci ha parlammo Fammi sapere e proverò a rispondere o meglio ci ha posso Sto a vedere un attimo perché ci dovrebbe essere una riunione Comunque è stupendo Ah no aspetta sto a parlare Potresti darci un aiuto in un brainstorming per un evento che stiamo organizzando a Milano Certo Sarò felice d'aiuta a pensai Depe nu Bel evento a Milano Ecco qualche suggerimento Tema Scegliete nu Tema forte e interessante Cia po' Tra tanta gente Chisto può essere colorato Artistico Musicale Scientifico O riguardante a sostenibilità Pe esempio Luogo Cercate nu Luogo bello e caratteristico d'intà città Come nu Parco N a piazza o N a location storica Chisto può aiutare da N a bella atmosfera all'evento Collaborazione Cercate da Dagli a CCU Gruppe e associazioni locali Come scuole d'arte Musei Musicisti e associazioni benefiche Chisto vuoi aiuterà a continuare idee e risorse PLL evento Intrattenimento Preparate nu Programma Si Attività varie e divertente per tutte età Potete incluere spettacoli musicali Danza Teatro Laboratori creativi e dimostrazioni scientifiche Cibo e bevande Offrite nu assaggio de tradizioni culinarie locali e anche de cibi internazionali Lo stesso vale per le bevande Incluendo vino Birra artigianale e cocktail Sostenibilità Pensate a come organizza l'evento N modo sostenibile Riducendo l'impatto ambientale e promuovendo o riciclo e l'uso di materiali ecologici Promozione Fate N a campagna pubblicitaria accattivante e coinvolgente Utilizzate social media Manifesti e collaborazioni con le realtà locali per raggiungere quanta cibi urgente possibile Spero che chi steidevo ha già aiutato a pensare all'evento Si tiene bisogno d'aiuto aggiuntivo o si vuole approfondire qualche punto Famme sape Vabbè capolavoro ragazzi Comunque Non me sape Abbiamo Penso Non lo so Spondato Il livello delle spalle Cioè non Non potevamo trovare qualcosa di migliore Devo soltanto un po' migliorare la reattività Ci lavorerò E Vedrò un attimo anche per Più avanti A sto punto Oddio sta Stavo a cascare Che trovi al computer Oddio un crollo Stavo a cascare un computer che c'ho qua da rifà E Voglio settare anche che c'ho La possibilità Che l'intelligenza artificiale possa reagire a quello che vede Quindi se vede un video di John Rubino che cade Possa dire qualcosa in merito a quello che vede Per ora ancora c'è un cazzo Quindi Stavo a fare delle ricerche Anche se Anche qualcosa di scritto Che poi io posso far leggere Quindi C'è qualcuno esperto Comunque Mi sono Mi sottovalutavo Non credevo di riuscire a fare questa cosa da solo Ci sono riuscito in una notte Però se c'è qualcuno Un programmatore esperto Che ci capisce Deste cose Delle intelligenze artificiali Mi può dare una mano Scrivetemi su Telegram Punto esclamativo Telegram Se riesco Lo faccio diventare Mo vedo un attimo Se riesco a Fa in modo Non lo so De farlo collegare pure al bot Che se gli dico Scrivi Punto esclamativo Telegram Lo scrive in automatico E' be navigata Si dopo i bosca Se io chiedo a Gabriele Sono un costruttore Di macchine Grazie Yomi Ormai proprio questa sarà Anche il nuovo Si potrebbe creare Un nuovo Universo Dove io Sto tipo Skynet Con tutti i robot E Simone E Dodubi La rivoluzione delle macchine L'automatizzazione Però stiamo Con tutti i robot E i mitra Con i laggi laser Si lui è simpatica Mo ma parla a napoletano Me sto a tagliare troppo Cioè nel senso Una live solo a parlare con lui E ne faremo arte Perché E' assurdo E mo vediamo Magari una volta a settimana Due volte a settimana Sicuro con la spalla fisso E dai Prima però Devo un attimo sistemarlo Ok Saluta tutti quanti Della chat Che ci stanno seguendo La live finisce qui E' stato un onore Condurla insieme a te E scordo sempre Che risponderà sempre In napoletano Perché gliel'abbiamo detto E' stupendo Salute a tutti quanti Da chat E a chi le cia Hanno seguito a live M ha fatto Un grande piacere D'aiuta Ed esse parte Di sto evento Grazie a voi E a tutti Chi le cia Stanno guardando Stati buoni E sperammo D'avere altre occasioni Per trascorrere TMP Assieme N futuro Addio Che taglio Bellissimo Ragazzi E' stato un piacere Io vi saluto Che c'ho La riunione Sto già in ritardissimo Però è stata Una super live Sto pure leggermente La chicchiando No Nuvulis A chi ce vò Duglie A chi ce vò male Che bello Che bello Nuvaz A chi ce vò male Bene E du gli A chi ce vò male Bello Bello VGN Mi piace Dai un salutone Ragazzi Un saluto Da Anna Franco Ciao Anna Franco E' stato un piacere Ah vedi Perfetto Era l'ultima Domanda Che potevo fare Su sta Chat Così Più intelligente Che poi in realtà Neanche Non era Così Intelligente Era solo Più lenta Ciao Anna Franco E' stato un piacere No Anna Frank Ciao E' stato un piacere Interagire con te Se hai ulteriori domande O richieste Non esitare a chiedere Sarò qui per aiutarti Mi dispi Avevo capito Anna Frank Era un po' Una cosa un po' greve Ma non volevo Anna Il cognome Franco E' il nome Ovviamente Poi quando mettiamo Quella femminile Anna Il nome E' il cognome Franco E' lì la gag L'ho capita dopo E' genio Chi l'aveva scritta Ciao ragazzi Ciao ragazzi E' stato un piacere Grazie mille Tutti voi che avete partecipato A questa cosa epica E Aspettate che Che si è levato Una cosa pronta E' F***o Pura la pubblicità E Stato epico ragazzi Stanotte siamo riusciti A costruire Questo apparato Comunicativo Con un Intelligenza artificiale Che ci permetterà Effettivamente Di averla come spalla Nelle prossime live Quindi sono veramente Fumettatissimo E euforico E dagli a tutti ragazzi Si Può Fare Ciao a tutti Ciao ragazzoli Alla prossima Bella ragazzi Grazie mille Grazie mille Per le Zab Per il sostegno Dagli a ragazzi Un salutone Anche da Anna Franco Ciao ragazzi Ciao a tutti Ciao a tutti No, non ti rende fatto, non ti rende fatto, lo sport, invece sì, invece sì. Premi per giocare.